Il prodotto è in questa scatola molto appariscente con le varie certificazioni e il marchio, niente di più e niente di meno. Qui vede tutte le caratteristiche, la protezione da UVA UVB, un frame molto robusto, insomma qui leggete tutto. Qui vediamo la prima cosa che mi è piaciuta, cioè questa custodia molto rigida, molto robusta, con una zip che funziona molto bene, un'etichetta gradevole e un gancetto molto comodo per attaccarla alla borsa. Come vedete la zip funziona molto bene, abbiamo all'interno un'altra custodia morbida, nel caso dovete metterlo in un borsello e non volete portare tutto questo spessore, e una pezzetta per la pulizia. Abbiamo anche un cartoncino per verificare se la lente è polarizzata, ma insomma ve lo evito, mi assicuro che lo è. Qui vediamo il prodotto in sé, l'ho già utilizzato, devo dire che va molto bene, non solo nella durata perché l'ho utilizzato una settimana e sta reggendo bene, ma l'ho anche trattato molto bene. Vediamo che gli steli hanno un piccolo scattino, quando si apre come vedete, e questo è molto gradevole perché tende a farli rimanere in posizione. Il nasello è in gomma non regolabile, ma comunque molto morbida e anche sudandoci devo dire che tiene molto bene. La lente ha questa colorazione rossa gradiente al giallo e una volta indossato ha questa tonalità leggermente azzurrastra, ma molto buona per quanto riguarda la protezione alla luce solare. È abbastanza scura, quindi va bene per l'outdoor, non in ambienti chiusi ovviamente, omologazione c'è, le plastiche sono molto buone, non ci sono bave di saldatura, anzi devo dire, è proprio un buon livello a livello di occhiali, tra virgolette economici. Qui vediamo il marchio, molto carino, tutto tono su tono, e la parte finale che va sulle orecchie con questa gomma che favorisce il grip, anche grazie a questa ziglinatura. Devo dire, i particolari molto ben fatti, come vedete. Il prodotto, devo dire, mi è piaciuto molto, l'estetica ovviamente è molto indicativa e molto personale, però a livello di qualità costruttiva mi è piaciuto molto. Ora vedremo quanto dureranno, magari vi aggiorno, però comunque per ora mi sta piacendo molto.